Il deputato regionale Stefano Zito ha scritto al presidente della Commissione Salute dell'Ars chiedendo una seduta urgente dedicata al tema del nuovo ospedale di Siracusa. Vanno valutate con attenzione alcune criticità emerse sull'aria individuata per la futura costruzione della struttura sanitaria. Anche l'aspe di Siracusa ha avanzato delle perplessità che non possono essere sottovalutate, spiega così Zito. E l'occasione di un'audizione ad hoc potrebbe essere sfruttata anche per intavolare in regione un confronto sulla necessità di impostare il progetto del nuovo ospedale di Siracusa come un DEA di secondo livello. Aggiunge così il deputato Pentastellato. Attualmente la rete ospedaliera individua l'ospedale di Siracusa come DEA di primo livello inferiore per offerta sanitaria rispetto a ciò che questa provincia merita. Zito ha chiesto che la commissione venga convocata a Siracusa anche per poter effettuare un sopralluogo sul posto. Sulla base della documentazione nel mio possesso, dice ancora il parlamentare del Movimento 5 Stelle, ritengo utile questo momento di confronto prima della scelta finale. Non possiamo rinviare in eterno la costruzione dell'ospedale di Siracusa. Occorre però chiarire se l'area individuata sia idonea e vantaggiosa anche in prospettiva di uno sviluppo futuro che il nosocomio deve avere. Grazie a tutti.